Carissimi amici, benvenuti in questa nuova lezione di fisiologia. Ora inizieremo con questa lezione a parlare della fisiologia cardiovascolare, quindi come funziona il cuore e come funziona la circolazione. Vedremo tantissime cose molto importanti che dovete sapere non bene ma benissime. Prima di affrontare questo capitolo dovete sapere benissimo le lezioni precedenti, dalla prima all'ultima di questo corso, se no qui cadete. Nell'ambito di questa prima serie di lezioni del videocorso di fisiologia in cui vi spiegherò la fisiologia cardiovascolare, iniziamo a parlare della fisiologia cardiaca, quindi di come funziona il cuore. Ovviamente dovete straconoscere benissimo l'anatomia del cuore, sia macroscopica sia microscopica. La stessa cosa poi quando faremo la fisiologia vascolare dovete straconoscere strabenissimo l'anatomia dei vasi sanguigni e ovviamente sia macroscopica che microscopica, se non la conoscete mi pare ovvio che non potete fare fisiologia cardiaca. Quindi dovete aver seguito i miei videocorsi di istologia dove nel corso di istologia vi parlo dettagliatamente del tessuto muscolare cardiaco. E poi nei corsi di anatomia macroscopica e microscopica vi parlo ovviamente di quella che è l'anatomia del cuore, di quella che è l'anatomia dei vasi, delle arterie, delle vene, le differenze, via dicendo, sia macroscopiche che microscopiche, quindi al microscopio. Tutte queste cose le dovete sapere non bene ma benissimo. Quindi iniziamo con la fisiologia cardiaca. Come funziona il cuore? Questo è un modellino estremamente schematico, mi raccomando, non rispetta i minimi dettagli anatomici. Quelli li vedete nel mio corso di anatomia e di istologia. Quindi state ben attenti, qui adesso io corro velocemente perché ovviamente sono, diciamo, delle infarinature che dovreste sapere. Quindi grande circolazione, piccola circolazione, grande circolo, piccolo circolo, tutti questi. Questi sono concetti base che ovviamente vengono studiati anche alle scuole medie, vengono approfonditi alle superiori, quindi già all'università voi dovete arrivare che già le conoscete. In ogni caso, quindi, sapete che quando il sangue arriva al cuore, ci arriva dove? Arriva al cuore grazie a cosa? Grazie alla vena cava superiore. Da questa parte, inferiormente, il sangue raccolto dalla vena cava inferiore, e arriva il sangue non ossigenato, va a finire a livello dell'atrio destro. Dall'atrio destro, attraverso la valvola tricuspide, va nel ventricolo destro. Dal ventricolo destro, ecco questo è un po' il percorso per farvi comprendere, in linee generali, poi lo vedremo bene quando studieremo, quando vi insegnerò il ciclo cardiaco, per come si deve, eh? Questo è un po' un percorso molto, molto, molto didattico. Dal ventricolo destro, in bocca, l'arteria polmonare. State bene attenti, vi avevo detto prima che il sistema di conduzione cardiaco è responsabile non solo della genesi degli impulsi nervosi, degli impulsi elettrici, degli impulsi nervosi, ma anche della propagazione, della conduzione di questi impulsi elettrici nel resto del cuore, così che si possa contrarre che cosa? Si possa contrarre ovviamente il miocardio. Allora, quindi iniziamo ad addentrarci seriamente nella fisiologia, quindi in questo caso nella fisiologia ovviamente del cuore, fisiologia cardiaca, il potenziale d'azione ventricolare, quindi essenzialmente, qual è l'andamento del potenziale d'azione? Ecco che si verifica in una cellula ventricolare, non del sistema di conduzione, ad esempio il nodo seno atriale, ma in una cellula ventricolare, ma che essenzialmente è anche uguale a una cellula atriale. Stiamo parlando del miocardio di lavoro, quindi queste cellule sono i cardiociti che formano il miocardio di lavoro. Allora, questo è l'andamento, adesso ve lo spiego, ora vi spiego tutto, però... Allora, terminata la fase 2 di plotere, abbiamo la fase 3, l'ultima fase di una fase di rapida ripolarizzazione del potenziale, quindi praticamente si ritorna poi a quella che sarà la fase 4, quindi il potenziale di riposo. Però, prima di ritornare al potenziale di riposo, deve avvenire questa ripolarizzazione. Questa fase di ripolarizzazione, che è la fase 3, la vedete qui, in discesa, infatti per questo punto è una ripolarizzazione, diminuiscono le cariche positive all'interno del cardiocita molto rapidamente, come vedete, è data da una diminuzione della permeabilità di membrana nei confronti dell'ione calcio e da un aumento della permeabilità di membrana nei confronti dell'ione potassio. Questo perché? Perché vengono inattivati i canali dell'ione calcio e quindi,